Sono qui dinanzi al Tabernacolo Santo per invocare la misericordia e la benedizione del Signore su di voi, sui vostri cari e su quanti portate nel cuore che il Signore doni la sua pace a tutti e a ciascuno. Visiti le nostre case in questa notte e ci colmi della sua grazia. Con questi sentimenti voglio augurarvi una notte serena e un riposo tranquillo e a quanti invece sono chiamati a lavorare nelle ore notturne, buon lavoro e a tutti però la Santa Benedizione. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona e Santa Notte a tutti e a domani.